Benvenuto in MPS Monitor, la soluzione più completa per il monitoraggio e la gestione remota di stampanti e multifunzione. Questo tutorial ti aiuterà nella creazione del primo cliente e nel download del connettore nella rete del cliente appena creato. Una volta installato, il connettore si configurerà automaticamente, iniziando subito il monitoraggio dei dispositivi. Il processo di attivazione è molto semplice. Se hai ricevuto una mail di attivazione del servizio MPS Monitor, aprila e clicca sul tasto Login. Accederai alla pagina in cui effettuare il primo accesso al portale. Qui puoi inserire un nome utente e una password a tua scelta. Dopo aver completato i tre campi, clicca su Conferma. Se dimentichi la password, recuperala dalla pagina di connessioni al portale MPS Monitor. Per guidarti nell'attivazione di un cliente, la procedura ti chiederà di eseguire tre step. Clicca su Continua per il primo passo. Accederai a una pagina da completare con i dati del tuo cliente. La denominazione Azienda e la Nazione sono dati necessari per procedere con la creazione. Tutti gli altri campi sono opzionali. L'ultima scelta riguarda la possibilità di inviare una mail al cliente invitandolo a installare il connettore in autonomia. Alla fine, clicca su Salva per confermare la creazione del cliente. Nello step 2, cliccando sul pulsante Scarica, è possibile effettuare il download del connettore da installare direttamente sul computer del cliente. Questo caso va bene se stai operando sul PC del cliente in locale o tramite un accesso remoto. Il secondo pulsante, Invia Mail, ti permette di inviare l'invito di installazione direttamente al cliente. Da questo riquadro puoi anche scaricare il manuale di installazione del connettore e la certificazione di sicurezza, che possono essere liberamente distribuiti ai clienti. Per installare il connettore è sufficiente disporre del link per scaricare il pacchetto di installazioni personalizzato per il cliente che hai creato. Attenzione! Non installare mai lo stesso pacchetto su clienti diversi, altrimenti i dati delle stampanti si confonderanno tra loro. Dopo aver cliccato sul link, troverai il pacchetto di installazione nella barra subito in basso alla tua finestra, oppure nella cartella download del tuo PC. Il file si chiama mpsmonitor.explorer.setup.exe. Clicca sul file.exe e accederai alla procedura guidata di installazione. Seleziona la lingua e clicca sempre su Avanti sino a che non vedrai il pulsante Fine come nell'ultima immagine. Se al termine dell'installazione è stato visualizzato il simbolo verde, il software è stato installato correttamente. Ora visualizzerai l'attivarsi dello step 3. È necessario attendere dai 15 ai 30 minuti affinché il connettore scansioni la rete del cliente visualizzando i dispositivi connessi. Il connettore si autoconfigura per raccogliere i dati dalle stampanti presenti sulla stessa rete su cui è installato. Se l'installazione è stata completata correttamente e il sistema si è autoconfigurato, entro pochi minuti potrai iniziare a consultare i dati rilevati. Potrebbero essere necessarie anche alcune ore per scoprire tutte le stampanti, quindi se non trovi subito tutte quelle attese, aspetta fino al giorno dopo e ricontrolla. Ritornando alla tua dashboard cliccando su Home nel menu a sinistra, avrai una visione d'insieme di tutti i clienti creati, dei loro dispositivi e dei connettori installati. Per creare un cliente basterà cliccare sul pulsante in alto a destra, Crea un cliente e ripetere la procedura appena descritta. Grazie per aver seguito questo tutorial di MPS Monitor.